con la chimica, quella che viene chiamata chimica. Nel frattempo ovviamente ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella, così naturalmente riceverai la notifica dei nuovi video. È importante, riceverai la notifica dei nuovi video e potrai volendo ovviamente dare un sostegno al canale, facendo una piccola donazione al canale e potrai naturalmente anche, oltre a fare una piccola donazione, usufruire dei vantaggi degli abbonamenti. Per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti l'importante è che fai l'abbonamento, ci sono tre livelli di abbonamento, c'è l'abbonamento live per diventare moderatore del canale. Allora Pepe Rosa, ti ho detto se si vede bene o meno, mentre iscrivetevi al canale di Pepe Rosa. E poi abbiamo l'abbonamento base per seguire i miei seminari, che sono lunedì e giovedì. E poi comunque restano un mese, puoi vederli tranquillamente quando vuoi. E poi, e poi abbiamo, diciamo, e poi abbiamo Oh, il mio fornitore internet, grande, 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 salutiamo anche Crazy Robby, Crazy Robby, Ma non a me piace chiamarlo Crazy Robby. E l'entucca, dobre viecer, dobre viecer. Allora, quindi, e poi dicevo, chi volesse avere una consulenza direttamente con me, può fare l'abbonamento Master Consulting, e attraverso l'abbonamento Master Consulting può fare, diciamo, che cosa può fare? Può fare, salutiamo Mauro, che vedete, devo chiavarmelo, perché Mauro è abbonato al canale, quindi dobbiamo mettergli la chiave. Adesso Mauro dovrebbe essere abbonato al canale. Bene, bene, quindi partiamo, partiamo, e cerchiamo di capire un attimino, quindi, come vanno le cose, cerchiamo di capire un attimino come vanno le cose. Allora, quindi, facciamo innamorare gli uomini attraverso, attraverso gli ormoni, fondamentalmente. Sembra strano, ma gli ormoni fanno innamorare gli uomini. E noi possiamo stimolare, quella che noi chiamiamo chimica, in realtà esiste, le persone, gli uomini si innamorano per la chimica, anche le donne ovviamente, ma in questo caso farò focus sugli uomini, ma mutatis mutandis vale anche per le donne. E quella è la produzione ormonale, no? Sono tre gli ormoni dell'innamoramento. Sono la dopamina, l'ossitocina e la vasopressina. E sono tutti ormoni importanti. Tra l'altro vi spiegherò un po', un po' come funziona il tutto. Perché la vasopressina è, salutiamo Deborah, la vasopressina è l'amore della monogamia, tra l'altro. Ma comunque andiamo per gradi. Quindi, quando voi dite c'è chimica con un uomo, in realtà c'è una stimolazione, una produzione ormonale. Quindi, ripeto, gli ormoni che si producono in un modo o nell'altro, quando noi siamo coinvolti, innamorati, quando viviamo una situazione di coinvolgimento emotivo, sono tre. La dopamina, l'ossitocina e la vasopressina. L'innamoramento, ovviamente, è un fenomeno complesso che non riguarda soltanto la stimolazione ormonale. La stimolazione ormonale prevede, diciamo, attiva soprattutto la parte istintiva dell'essere umano, anche la parte emotiva, ovviamente. Ma l'innamoramento, il coinvolgimento, riguarda anche la parte cognitiva, la parte logica. Saluto anche Antonella, saluto anche Bella. Riguarda anche la parte logica. Comunque, l'innamoramento è un fenomeno complesso, è un fenomeno affascinante, che coinvolge tutta una serie di fattori psicologici, emotivi, che non sono meno importanti, diciamo, però anche della sfera cognitiva. Nel nostro cervello, quando noi ci innamoriamo, subentra tutta una serie di produzione ormonale, ma noi possiamo agire per produrre gli ormoni. Questo è il grande concetto che dobbiamo prendere in considerazione. Nel nostro cervello, quando siamo innamorati, si producono degli ormoni, ma ci sono degli atteggiamenti particolari che possiamo mettere in atto per far produrre questi ormoni. Salutiamo Antonella. Non so se mi sono spiegato. Se noi impariamo ad avere gli atteggiamenti giusti, i comportamenti giusti, riusciremo a produrre energia, riusciremo a produrre ormoni, a far produrre ormoni. La persona percepirà, quando questi ormoni si attiveranno, di essere innamorata di noi. Salutiamo anche Pippoli. Che fine ha fatto Sissi, la tua capretta? Che fine ha fatto Sissi? Salutiamo anche Vera. Allora, come dicevo, ovviamente i tre ormoni principali, poi sicuramente ce ne sono anche altri, sono la dopamina, l'ossetocina e la vasopressina, che sono particolarmente influenti. Quindi comprendere come questi elementi chimici funzionano ci fornisce una prospettiva interessante su come far innamorare una persona, su come far innamorare un uomo, ma anche su come far innamorare una donna. Salutiamo la nostra greenettina, green apple. Quindi questo è il concetto di fondo, no? Allora, il primo ormone è la dopamina. Prendete appunti. Non c'è la caprettina rosi? C'è rosi? Allora, la dopamina viene anche chiamato ormone della ricompensa. La dopamina è un neurotrasmettitore fondamentale. Come non siete fidanzati? Beh, certo, è la tua, come dire, il tuo animaletto da compagnia, certo che non siete fidanzati. La dopamina è un neurotrasmettitore fondamentale nel sistema di ricompensa nel cervello. È associata, diciamo, alla sensazione di piacere, è associata alla sensazione di gratificazione. Quando siamo attratti da qualcuno e ci sentiamo felici in sua presenza, i livelli di dopamina nel cervello aumentano. Questo è molto importante, è capirlo. Questo è molto importante perché sono proprio i livelli che aumentano nel cervello che vanno a far sì che noi proviamo che noi proviamo una sensazione di benessere. Questi, diciamo, questi ormoni sono prodotti poi da delle ghiandole fisiche. Cerchiamo di capire un attimino. Abbiamo detto che sono tre ormoni. Dopamina, ossitocina e vasopressina. Adesso poi li vedremo tutti. Gli ormoni e i neurotrasmettitori, questi tre neurotrasmettitori, sono prodotti da specifiche ghiandole e specifiche regioni del cervello. Allora, do qualche indicazione. Io ovviamente non è che sono un neuroscienziato, però qualche indicazione possiamo darla. La dopamina è un neurotrasmettitore che viene prodotto in diverse aree del cervello, soprattutto un'area, diciamo, soprattutto nella parte del mesencefalo, che è quella parte che è coinvolta anche dal controllo dei movimenti, in un'area che si chiama substantia nigra, è un'area del cervello. Poi anche, diciamo, altre aree del cervello producono sempre e comunque la dopamina. E poi ovviamente abbiamo l'ipotalamo, che è una regione del cervello che produce vari ormoni, inclusa la dopamina. Quindi, vedete, non è che c'è una singola ghiandola per quanto riguarda la dopamina, è proprio prodotta in diverse aree del cervello. E poi l'ossitocina è un altro ormone che viene prodotto nell'ipotalamo e rilasciato, viene prodotto nell'ipotalamo e rilasciato nella ghiandola pituitaria che si chiama ipofisi, nella ghiandola pituitaria posteriore. Cioè, l'ipotalamo produce ossitocina che viene trasportata alla ghiandola pituitaria e la ghiandola pituitaria la rilascia. Quindi c'è questa sinergia, diciamo, tra una parte del cervello e l'ipotalamo e poi, diciamo, la ghiandola che invece la rilascia fondamentalmente. La ghiandola pituitaria che viene chiamata anche ipofisi. E poi abbiamo la vasopressina. La vasopressina che viene prodotta anche essa nell'ipotalamo. L'ipotalamo viene sempre, diciamo, ha sempre una funzione molto importante. Praticamente anche l'ipotalamo, diciamo, praticamente la storia della ghiandola, diciamo, l'ipotalamo e, scusate, l'ossitocina e la vasopressina hanno lo stesso percorso. Vengono entrambe prodotte dall'ipotalamo e vengono, e vengono entrambe rilasciate dalla ghiandola pituitaria. E stiamo ancora parlando d'amore, Green Apple, perché l'amore è chimica. Stiamo parlando del lato chimico dell'amore. Mentre saluto anche Francesca, Francesca, l'amore è chimica. Cioè, è una parte, perché noi alla fine siamo condizionati fondamentalmente. Allora, l'ipotalamo, tanto per dire, no, è una piccola regione alla base del cervello che ha, diciamo, che ha tante funzioni, diciamo, come ad esempio regolare la temperatura corporea, regolare la fame, regolare la sete e regolare anche gli ormoni che vengono rilasciati dalla ghiandola pituitaria fondamentalmente. Questa ghiandola pituitaria, che è molto importante, è una piccola ghiandola, l'ipofisi, che è, diciamo, situata alla base del cervello e è una delle ghiandole principali, non del corpo, perché ha la funzione anche di controllare le altre ghiandole endocrine ed è divisa, se vogliamo, in due parti, l'ipofisi anteriore e l'ipofisi posteriore. È arrivata il tuo animaletto da compagnia, eccola qua, la nostra Sissi, ha detto Pippoli che sei il suo animaletto da compagnia, però non ha detto quale animale, cos'è, una rana? Non ha detto quale animale. E questo è il punto fondamentale. Ovviamente l'ipotalamo e la ghiandola pituitaria sono strettamente connessi e lavorano quindi in sinergia fondamentalmente. L'ipotalamo produce ormoni, tra cui questi ormoni che abbiamo citato, vengono immagazzinati nella ghiandola pituitaria e vengono rilasciati dalla ghiandola pituitaria. In questo caso parliamo dell'ossitocina e della vasopressina. E quindi questo è un punto fondamentale. Quindi la comprensione di queste ghiandole, diciamo, è semplicemente un fatto tecnico per capire che però, quando questi ormoni ci sono, noi ci innamoriamo. Adesso andremo un po' più in dettaglio, perché il concetto di fondo qual è? Il concetto di fondo è il seguente, che se io do degli stimoli comportamentali, posso generare, diciamo, posso generare che cosa? Posso generare la produzione di questi ormoni. Cioè, la produzione di questi ormoni genera innamoramento. La nostra Green Apple, li verranno i capelli lisci alla nostra Green Apple, però la produzione di questi ormoni genera innamoramento. E ci sono, diciamo, degli atteggiamenti che stimolano il nostro cervello alla produzione di questi ormoni. Questo è il concetto di fondo. Cioè, è quella che noi chiamiamo chimica, no? Quando noi diciamo, ah, c'è chimica o non c'è chimica, è un punto fondamentale, no? Salutiamo, beh, la ricaptazione della serotonina, quello sono gli antidepressivi, Mauro, gli inibitori della ricaptazione della serotonina. Comunque sia, ah, bravo, l'hai creato la cuccia a casa, bravo, bravo, Pippoli, creagli sempre la cuccia a casa. Allora, veniamo, veniamo, quindi cerchiamo di capire quindi il tema, cerchiamo di capire il tema. Partiamo con la dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore, diciamo, fondamentale per la ricompensa del cervello. Cioè, quando il cervello percepisce, vuole ricompensare, la persona produce dopamina. Quindi, quando noi percepiamo qualcuno che ci interessa, produciamo dopamina. Perché ci sentiamo ricompensati, ci sentiamo gratificati. Ma la dopamina, ve la produce anche la Nutella. Ah, i tempi di produzione sono estremamente brevi. Cioè, i tempi di produzione degli ormoni sono estremamente brevi. Sono, diciamo, a rilascio quasi, diciamo, non dico quasi istantaneo, ma la chimica è molto, molto rapida. La chimica è molto, molto rapida. Cosa vuol dire? Che si parla di secondi, ma anche meno di secondi. I tempi, infatti, l'attrazione fisica, il piacere fisico di stare con una persona, lo focalizziamo dopo. L'endorfina non c'entra una minchia, Scanu. L'endorfina, ecco, tanto per dire, l'endorfina non c'entra niente. Perché l'endorfina, che cos'è? L'endorfina sono degli ormoni che servono per ridurre il dolore. E ovviamente riducendo il dolore aumentano la sensazione di piacere. Però, però, l'endorfina è una specie di morfina, tra virgolette, endo vuol dire endogeno e morfina. Endorfina è la combinazione tra endogeno e morfina. Quindi è per questo che si chiama endorfina. Ma non c'entra assolutamente niente con l'innamoramento. Certo, ti dà piacere perché ti toglie il dolore, fondamentalmente, no? Quindi, le endorfine sono prodotte anche dalla ghiandola, dall'ipotalamo, ghiandola pituitaria, ma sono prodotte anche dal midollo spinale. Però, la funzione dell'endorfina è l'analgesia, quindi toglierti il dolore. Certo, ti dà anche stati di euforia. Le endorfine ti dà anche stati di euforia, ti dà anche stati di benessere. Però, diciamo, non è la sua funzione principale. Non fa parte l'endorfina degli ormoni dell'innamoramento. Quindi, l'endorfina ti dà una sensazione di benessere, ma, ecco, una cosa interessante, tra le varie puttanate che, no, vabbè, non è una puttanata quel che è togiorgio, però, ad esempio, l'attività fisica produce endorfina, perché l'esercizio, diciamo, fisico, aumenta il livello di endorfina. Quindi, da un certo punto di vista ti dà un livello di benessere, ma non di innamoramento. È diverso, anzi, paradossalmente, l'endorfina ti può anche rilassare, fondamentalmente, no? Ti può anche rilassare. Quindi, l'endorfina la produce attraverso, per stimolare l'endorfina, tu puoi fare attività fisica, puoi fare meditazione, fare yoga, ascoltare la musica, ma non c'entra. Gli ormoni dell'amore sono essenzialmente tre, e sono quei tre ormoni che ti ho detto, sono la dopamina, l'ossitocina e la vasopressina. Adesso veniamo a questi ormoni. La dopamina, dicevamo che è l'ormone della ricompensa, quindi ci ricompensa quando siamo felici di stare con una persona. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Quando proviamo piacere a stare con una persona, allora, 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 otteniamo dei risultati. Credo che sia chiara, no? Questa cosa. intanto, iscrivetevi al canale, al canale Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare. Salutiamo anche Walking the Path. e vi ricordo che questa sera c'è un appuntamento molto interessante a cui vi esorto a partecipare su questo canale, alle ore 21. Abbiamo la maestra di yoga che ci svelerà i segreti dello yoga, quindi vi voglio tutti presenti sul canale, alle ore 21, perché abbiamo Nadia Blancato, che è una bravissima maestra di yoga, che ci parlerà dello yoga classico, delle potenzialità dello yoga classico, e anche dello yoga spirituale, ci parlerà anche della costituzione occulta del corpo umano, ed è interessante. Allora, quindi, riprendiamo un attimino, riprendiamo un attimino il discorso. Quindi, come faccio a stimolare dopamini in una persona? Beh, ad esempio, ad esempio, è molto semplice, sono le esperienze condivise. Se io condivido un'esperienza positiva con una persona, che potrebbe anche essere semplicemente un'esperienza sessuale, ma non soltanto un'esperienza sessuale, ad esempio, crea un ancoraggio emozionale positivo, perché, ricordatevi bene questo, la dopamina è l'ormone della felicità. La dopamina è l'ormone della felicità. Quando sono felice, produco dopamina, e la dopamina mi produce felicità. Quindi questo si chiama un loop, si chiama loop questo, cioè nel senso che è praticamente un circolo, in questo caso virtuoso, ma potrebbe essere anche un circolo, ma potrebbe essere anche un circolo vizioso, un circolo nefasto. Il circolo nefasto qual è? L'infelicità riduce la dopamina, la riduzione di dopamina produce infelicità. Noi invece dobbiamo fare il contrario, innescare un circolo virtuoso. La felicità produce dopamina, la dopamina produce felicità. Quindi è un loop virtuoso. Quindi il modo più semplice per far sì che una persona, in nostra presenza, diciamo, il modo più semplice per far sì che una persona, in nostra presenza, produca dopamina, e quindi si senta, diciamo, e quindi si senta coinvolta, e quindi si senta, diciamo, come dire, coinvolta con noi, è fargli vivere, vivere assieme a questa persona un'esperienza positiva. Ma questo è fondamentale, perché voi, quando state con una persona e vivete delle esperienze di merda, andate a ridurre la dopamina, andate a ridurla. Quello che fate voi, quando voi vi incontrate, magari con una donna, o con un uomo, eccetera, eccetera, e fate le piagnone, fate le rompi cazzo, fate le rompi coglioni, avete capito che voi non producete dopamina, riducete la dopamina, perché praticamente producete infelicità. Ovviamente, come dire, producete infelicità. Quindi dovete, se volete produrre dopamina, dovete creare, beh, si crea, il legame si crea, ma è un legame malato. Il legame si crea, perché poi la parte emotiva, ecco, è interessante la domanda che ha provato, che ha dato, che è la domanda che ha fatto Giovanna Russo. Si crea, perché è un meccanismo difensivo della nostra parte emotiva. Perché, se la nostra parte emotiva, dove si nutre di emozioni, e dovesse vivere, soltanto sulle emozioni positive che tu gli fornisci, ma non si crea dopamina, però, eh? Cioè, questo trasmettitore non si crea. Si crea lo stesso un legame, ma è un legame tossico. Perché? Perché è un legame tossico? È un legame tossico perché, praticamente, non si crea dopamina, ma la persona resta legata alla merda. Perché? il principio di fondo è che se la tua parte emotiva dovesse nutrirsi solo della felicità, morirebbe di fame. È un meccanismo di sopravvivenza della parte emotiva. Tenete presente che la parte emotiva non è che gli fa piacere mangiare merda anziché il risotto. Il problema è che voi non gli date il risotto e quindi deve accontentarsi della merda, fondamentalmente. Questo è il concetto di fondo, no? E quindi voi alla fine però se voi volete creare dopamina, creare un ancoraggio emozionale positivo, dovete vivere delle esperienze condivise anche brevi. Anzi, è meglio che siano brevi queste esperienze condivise perché questo può aumentare i livelli di dopamina e si crea un ancoraggio emozionale molto importante. Si crea un ancoraggio emozionale positivo. Può essere una serata passata assieme, può essere beh, tra l'altro ad esempio ascoltare musica assieme. Abbiamo detto che la musica è una delle cose che produce dopamina. Quindi ascoltare musica ad esempio produce anche serotonina però anche diciamo fare qualcosa assieme è molto importante. Anche diciamo fare avere delle sorprese creare delle emozioni improvvise delle emozioni improvvise positive. Questo è un punto molto importante. Le sorprese positive le novità stimolano il rilascio della dopamina quindi questo cercate di farlo. Beh, brevi intendo due o tre ore ma non è importante quanto sia il tempo è importante che deve essere positiva la cosa può essere anche dieci minuti mezz'ora come dicevo il rilascio ormonale è un rilascio molto rapido ovviamente è un rilascio molto rapido quindi salutiamo anche Paolo poi un'altra cosa importante poi abbiamo l'altro ormone l'altro ormone è l'ossitocina l'ossitocina è veramente chiamato l'ormone dell'amore perché l'ossitocina è chiamato l'ormone dell'amore e negli uomini si produce attraverso l'abbraccio nelle donne più attraverso la sessualità ti ho salutato Paolo se lo dice ancora una volta però vuol dire che sei un troll e ti banno ti ho salutato comunque allora dilla ancora una volta allora bannate sto Paolo o Papa che è un troll bannate sto Paolo o Papa anzi lo banno io mi tolgo la soddisfazione di bannarlo allora quindi questo è un po' il concetto è un po' il concetto fondamentale no l'ossitocina si produce negli uomini attraverso le coccole quindi se voi abbracciate un uomo e lo coccolate gli fate produrre ossitocina se invece se invece modem nuovi trollem nuovi esatto esatto se invece nella donna nella donna si produce prevalentemente attraverso la sessualità sia attraverso l'abbraccio ma anche attraverso la sessualità quindi comunque in generale per aumentare i livelli di ossitocina in un uomo che comportamenti dovete avere nei confronti di quest'uomo perché ricordo che noi attraverso i comportamenti possiamo produrre la stimolazione ormonale è chiaro è chiaro non è chiaro questo è un concetto fondamentale attraverso i comportamenti possiamo l'ho messo e entrano perché si saranno iscritti entrano perché si saranno iscritti ovviamente il contatto fisico quando parlo di contatto fisico affettivo cosa intendo intendo gli abbracci le carezze i baci tutto quello che riguarda l'affettività ma anche semplicemente abbracciarsi sono tutte cose che in un uomo stimolano la produzione di ossitocina quindi l'uomo si innamora con l'affettività la donna invece si innamora di più con la sessualità la donna si innamora di più attraverso la sessualità no gli interessi in comune servono più per la dopamina Giorgio Scano l'interesse in comune a parte che dovresti fare l'abbonamento se vuoi delle risposte o fare una donazione e non fare il pezzaro Giorgio Scano abbonati tanto costa un euro l'abbonamento così puoi interagire tranquillamente in chat e diventi moderatore quindi stavo dicendo il contatto fisico ad esempio ecco ricordo che su questo canale ci sono tre livelli di abbonamento abbonamento live per diventare moderatore abbonamento base per seguire i miei seminari che sono a lunedì giovedì ore 18.45 ma poi ma poi durano un mese quindi potete vederli tranquillamente chi volesse una consulenza telefonica direttamente con me avere l'onore e il privilegio di parlare direttamente con me a telefono può fare l'abbonamento Master Consulting elaboreremo assieme una strategia di seduzione che vi servirà per conquistare chi vi interessa o per riconquistare chi vi interessa quindi mentre le esperienze condivise gli ancoraggi emozionali producono dopamina se volete produrre ossitocina che è diciamo l'ormone dell'amore andate su abbracci baci carezze coccole tutto quello che è affettività anche gesti una carezza un bacio un abbraccio poi l'intimità emotiva l'intimità emotiva produce ossitocina in un uomo quindi cosa vuol dire l'intimità emotiva beh condividere pensieri sentimenti profondi ad esempio ascoltare attivamente l'altra persona il maschio quando ti parla devi ascoltarla attivamente infatti una delle skills molto importanti è proprio l'ascolto attivo infatti parleremo sicuramente di ascoltativo che è una skills molto importante quindi anche qua diciamo sono tutte queste cose che producono in una donna in una donna sicuramente l'ossitocina viene prodotta anche dei baci e degli abbracci in una donna l'ossitocina in una donna l'ossitocina viene anche prodotta diciamo dai baci dagli abbracci ma viene anche prodotta dalla sessualità perché per una donna probabilmente la sessualità una donna se fa sesso si deve innamorare diciamo per una questione legata a che cosa legata al fatto che può rimanere incinta anche se voi siete anziane che neanche più lo spirito santo vi mette incinte fondamentalmente questo non importa però questo non importa ma Rosi che fino ha fatto non c'è Rosi che fino ha fatto Rosi sarà andata a sognare di andare a Monte Carlo quindi anche se neanche più lo spirito santo vi mette incinte però il concetto di fondo qual è che però una donna potenzialmente potrebbe rimanere incinta per cui deve innamorarsi fondamentalmente quindi questo è un punto molto importante è un punto fondamentale quindi quindi per una donna conta sia il contatto fisico gli abbracci le carezzi i baci sono importanti l'intimità emotiva bene grande Gina de Cazza brava Gina continua così monitorizza ogni 5 minuti devi monitorizzare se si vede se si sente ogni 5 minuti Gina né un secondo di più né un secondo di meno con lo stipendio che ti pago devi fare un monitoraggio ogni 5 minuti quindi e poi abbiamo il tempo di qualità il tempo di qualità deve essere passato bene quindi attraverso l'affettività ok e poi c'è il terzo ormone il terzo ormone è particolare perché è la vasopressina la vasopressina è un ormone particolare perché diciamo è un ormone molto importante nel processo di innamoramento sturatevi le orecchie vecchie befane perché la vasopressina è l'ormone della monogamia è l'ormone della fedeltà la vasopressina è l'ormone della fedeltà volete un uomo fedele stimolategli vasopressina stimolategli vasopressina minchione quando non è fedele perché non siete state in grado di produrre salutiamo Tug se va fatta le corna è colpa vostra che non avete non siete state in grado di attraverso i vostri comportamenti di fargli produrre vasopressina perché la vasopressina è un ormone molto importante è un ormone molto importante per quanto riguarda e c'è ogni timpani per quanto riguarda il processo di innamoramento il processo di legame affettivo la vasopressina è associata a comportamenti di attaccamento e di fedeltà befane salutiamo Betty Kotic e gioca un ruolo cruciale diciamo la vasopressina nel consolidamento delle relazioni a lungo termine volete stimolare una relazione a lungo termine stimolate vasopressina minchione allora come come si produce quali sono quali sono i comportamenti per stimolare la vasopressina allora qua sono le abitudini qua sono le abitudini mi spiace dirlo è per quello che molti uomini poi alla fine magari trasgrediscono ma poi alla fine si tengono la moglie perché consolidano l'amore e sono le routine condivise le abitudini create delle abitudini quando conoscete una persona ma delle abitudini non è che dovete creare delle abitudini della madonna ad esempio potete creare l'abitudine di scambiarvi dei messaggi a una certa ora tutte quelle che sono routine o chiamare quella persona sempre la stessa ora o farvi chiamare sempre la stessa ora se una persona è lontana quindi il concetto di fondo è creare delle routine condivise ad esempio che ne so sentirvi tutte le sere se potete farlo certo se una persona ha diciamo possibilità di vedersi frequentemente potrebbe essere di diciamo che ne so una sera alla settimana cenare assieme per dire no una sera alla settimana cenare assieme io lo stipendio di 0 euro te l'ho sempre pagato citrulla befana rincoglionita te l'ho sempre pagato lo stipendio 0 euro puntuali tutti i mesi ti pago 0 euro puntuali tutti i mesi citrulla non ho saltato un mese 0 euro puntuali tutti i mesi e non ti ho dato né un euro in più né un euro in meno sempre 0 puntuali pochi ma sicuri pochi ma sicuri 0 euro sempre sicuri un raggio di sole malato allora quindi questo è un punto fondamentale esatto bravo crazy bravo crazy 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 robie crazy robie quindi create delle routine condivise poi dimostrate di fidarvi di lui ecco vi dico una cosa importante vecchie citrulle befane rincoglionite che non siete altro la gelosia abbassa la vasopressina la gelosia abbassa la vasopressina la gelosia abbassa la vasopressina perché invece il dimostrare di fidarsi il dimostrare di fidarsi veramente di quella persona aumenta la vasopressina quindi voi che siete gelose quello lì vi farà le corna perché la vasopressina è l'ormone della felicità ogni volta che voi siete gelose la vasopressina si abbassa la vasopressina si abbassa non lo so ad esempio si si se sei gelosa di pippoli se sei gelosa di pippoli ogni volta che gli fai una scenata di gelosia a pippoli li si abbassa a pippoli li si abbassa totalmente e non li si alza più hai capito ogni volta che tu fai la scenata di gelosia a pippoli gli si abbassa gli si abbassa completamente diventa vasodepressina esatto tu fai le scenate di gelosia e a pippoli li si abbassa e non li si rialza più guarda che una volta che a pippoli si è abbassato non c'è verso di farglielo rialzare non c'è verso puoi fare quello che vuoi ma una volta che gli hai fatto abbassare non si li rialza più quindi puoi fare tutto quello che vuoi e non si rialza quindi la cosa fondamentale è avere fiducia dimostrare fiducia questo fa innalzare la vasopressina lo fa innalzare anche a pippoli e se tu dimostri sì sì di fidarti di pippoli dimostri diciamo di fidarti fondamentalmente di non essere gelosa gli innalzi il livello di vasopressina e quindi abbiamo già visto delle cose no ovviamente tutto questo che cosa porta è non ti fidi lo fai abbassare tutto questo cosa porta porta diciamo a stabilità e sicurezza e la stabilità e la sicurezza nel rapporto che è un ciclo virtuale che fortifica la vasopressina quindi se volete un uomo fedele in pratica cosa dovete fare dovete condividere delle delle routine con lui condividere delle routine con lui delle abitudini di qualunque genere voi possiate farlo e dimostrare che vi fidate dargli dimostrazioni di fiducia in questo modo la sua vasopressina si innalza si innalza questo è il concetto fondamentale quindi concludendo concludendo ricordo poi che alle 21 abbiamo un appuntamento importantissimo quindi Mauro Pippoli Betty Kotic Sissi Green leggevo che le donne che prendono la pillola avendo gli ormoni sballati si innamorano di un certo tipo di uomini e quando poi smetto di prendere trovano gli uomini ah è possibile è possibile vabbè ma per voi che oramai che pillola prendete tanto voi neanche più lo spirito santo vi mette incinte quindi avete vi siete tolti il problema però è vero bravo Green Apple è vero è vero è vero quello che dice Green Apple è totalmente vero le donne che prendono la pillola e quindi modificano la loro produzione ormonale perché la pillola modifica la produzione ormonale si innamorano di certe caratteristiche e quando smetto di prendere la pillola è come dire la motivazione sostenibile finisce perché è come se finisse la chimica è come se finisse la chimica esatto è come se finisse la chimica quindi fate attenzione fate attenzione ma tanto voi ormai i problemi di pillola non ne avete più perché neanche lo spirito santo cioè a voi ormai neanche lo spirito santo neanche il Dio padre in persona riuscirebbe a fecondarvi quindi non c'è problema quindi come vedete l'innamoramento è un fenomeno complesso ovviamente non è che basta soltanto la chimica questa è una parte dell'innamoramento come dicevo prima è una parte dell'innamoramento cioè quella che chiamiamo chimica però in realtà poi ci sono c'è altro per far innamorare c'è anche una sfera logica fondamentalmente c'è anche ci sono sfere logiche ci sono anche sfere diciamo di altra natura emozionali però questa è una parte che può essere importante comunque quindi non ho detto che tutto l'amore è chimica e non ho detto che solo l'amore che l'amore è solo chimica è chiaro no questo concetto sto dicendo che però questa è una parte e siccome nella seduzione bisogna agire a 360 gradi bisogna agire a 360 gradi ovviamente bisogna agire a 360 gradi quindi bisogna anche conoscere questi meccanismi poi l'amore prevede tante altre cose ricordo che chi volesse approfondire in modo dettagliato tutte le tematiche dell'amore può fare diciamo può fare diciamo può fare che cosa può fare la buona brava Gina brava Gina può fare l'abbonamento al canale ad esempio l'abbonamento base può seguire tutti i miei seminari che sono lunedì e giovedì oppure può fare l'abbonamento Master Consulting per avere il privilegio di avere una come possiamo dire di avere una di avere una come possiamo dire non dire cazzate Marianna il tuo cervello gracchia la racchia che gracchia questo è un concetto molto importante bene vi ricordo vi ricordo che vi ricordo che vi ricordo che potete questa sera alle 21 ci sarà un appuntamento importantissimo di Radio Maria anche tu Crezi Roby vieni stasera alle 21 che è anche una bella donna è comunque la nostra la nostra Nadia Cassa Nadia Blancato è anche una bella donna è Crezi quindi vieni vieni partecipa una bella donna alle ore 21 abbiamo la nostra Nadia Blancato che ci parlerà di yoga ma oltre a essere una bella donna è vabbè ho sbagliato nome oltre a essere una bella donna è anche una è anche molto simpatica e quindi è anche molto brava preparata ci parlerà di yoga quindi ci vediamo alle ore 21 e poi alle 22 ci sarà la musica la premia musicale bene un saluto a tutti a tutte voi carampane beffate